Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Giovedì 5 gennaio alle 9.30 ci dovrebbero essere i funerali in piazza San Pietro, presieduti dal Santo Padre evidentemente. Come sapete già da lunedì dovrebbe essere presente il corpo del Papa Emerito nella Basilica di San Pietro per le preghiere, per un ultimo saluto, un incontro con tutti quei fedeli che volessero recarvisi. Appena avremo altre informazioni, sia per quanto riguarda gli accessi alla Basilica che eventualmente per il funerale, vi faccio sapere, ci diamo appuntamento e torno a darvele eventualmente secondo le modalità che riusciamo a fare in quel momento. Ora forse vi direi la stessa cosa in inglese, in modo che così anche chi non dovesse capire l'italiano può capirlo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Per il momento non ho molte altre informazioni, quindi magari lasciamo le domande a quando c'è qualche informazione aggiuntiva. Se ci fossero delle questioni puntuali che dovete chiedermi sono qui a vostra disposizione, però per il momento non credo sia il tempo delle domande e anche il tempo di lasciarsi con un po' di tristezza nel cuore. Scusate. Grazie. Grazie.